Buongiorno, siamo nella sala dei mappamondi dell'Accademia delle Scienze e ci intratterremo su un tema che è naturalmente di estrema attualità, cioè su emergenza pandemica e fibrillazione democratica, cioè una riflessione che cerca di inquadrare la nostra problematica all'interno di una riflessione più generale sullo Stato e anche sul futuro delle nostre democrazie. Questa crisi, questa emergenza pandemica ha trovato indubbiamente impreparati tutti gli stati del pianeta che hanno reagito diversamente, ma comunque anche i regimi democratici, anche le democrazie costituzionali dell'Occidente hanno mostrato una preoccupante impreparazione e una difficoltà di reazione a questa situazione. Difficoltà in preparazione che ha riguardato tanto i governi, tanto i decisori politici quanto le cittadinanze. Gli stati hanno reagito in maniera differente e il caso italiano è un caso sicuramente particolare, anche questa volta l'Italia ha avuto modo di esibire alcune delle sue tradizionali anomalie che hanno riguardato prima di tutto le reazioni a livello di decisione politica e amministrativa. L'Italia è arrivata sicuramente impreparata perché con il carico di debito pubblico che era venuta poco responsabilmente accumulando nel corso dei decenni, si è trovata sguarnita su fronti particolarmente sensibili, in particolare proprio quello sanitario. I tagli hanno creato una situazione di partenza sicuramente difficile e particolarmente onerosa da affrontare anche per quanto riguardava la tempistica, i rimedi che dovevano essere messi in atto e che non potevano essere improvvisati da un giorno all'altro. Un secondo peso storico che ha aggravato sulla nostra risposta sta sicuramente nell'inadeguatezza dell'apparato amministrativo, ministeriale e amministrativo nel complesso, un problema storico che potremmo ricostruire risalendo molto indietro ma che certamente non ha trovato soluzioni soddisfacenti anche nel corso degli ultimi decenni in cui più spesso si è parlato così intensamente si è parlato di riforma amministrativa, di necessità di mettere le nostre istituzioni all'altezza dei nuovi processi di trasformazione indotti dalle tecnologie, indotti dalla globalizzazione, sicuramente noi siamo entrati in questa fase di emergenza con un'amministrazione pubblica ancora pesante, ancora legata a un modo di affrontare i problemi in cui domina il normativismo giuridico più che la capacità di intervento efficiente, tecnicamente all'altezza della complessità dei problemi che la pandemia pone davanti. E bisogna anche tenere presente che questo carattere della pubblica amministrazione nel caso italiano risultato più che in altri paesi democratici e europei aggravato dal fatto che questo apparato burocratico aveva nel corso degli anni, nel corso dei decenni accumulato anche delle disfunzionalità legate al tipo di assunzioni, di produzione di quell'apparato amministrativo molto condizionato da scelte di tipo politico e di tipo clientelare. Un terzo aspetto ha riguardato sicuramente, riguarda un certo disordine legislativo, un'inflazione normativa che da quando esiste la Repubblica dalla prima fase, dagli anni 50 è stata oggetto perenne di dibattiti, di analisi, questa inflazione normativa, la produzione accanto alle leggi, di leggine, di decreti, di varie tipologie di decreti e guarda caso anche in questa situazione noi ci siamo trovati di fronte ad un abuso della decretazione o alla necessità di fare uso di una decretazione arrivando anche ad accentuare una tipologia specifica di decreti che sono i decreti della Presidenza, del Consiglio e dei Ministri che ha sollevato polemiche, malumori di vario genere. Qualche volta si è avuto un po' l'impressione poi che fossimo ricaduti in uno scenario storico simile a quello dell'ellenismo antico, in cui i sovrani emanavano delle misure di carattere generale che avevano validità per tutto il territorio del Regno che venivano chiamati diagrammata e poi parallelamente emanavano altri decreti con validità locale che invece erano chiamati prostagmata. Ecco, noi ci siamo mossi di nuovo oscillando tra questi due estremi e generando insoddisfazione sia sul piano della normativa di validità nazionale sia sul piano degli interventi che venivano a localizzarsi nell'ambito regionale o in altri ambiti ancora più delimitati. E questo complessivamente fa emergere un'altra ancora difficoltà specifica che ha caratterizzato questo passaggio, cioè l'emergere della disfunzionalità dell'assetto costituzionale italiano per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e il coordinamento dei poteri tra il centro e la periferia, cioè tra il potere governativo centrale e fondamentalmente le regioni. Intendiamoci, il problema si è manifestato seriamente ovunque e anche gli stati federali meglio costruiti tecnicamente, ingegneristicamente dal punto di vista dell'ingegneria costituzionale hanno avuto le loro difficoltà e i loro problemi di coordinamento hanno manifestato una forte conflittualità tra l'istanza centrale e quelle subordinate regionali. Prendiamo il caso della Germania che certamente è uno dei sistemi federali che hanno mostrato la migliore capacità di funzionamento nel corso dei decenni dopo la guerra mondiale ebbene anche lì il coordinamento tra il cancellierato, il governo centrale e i lender è stato difficoltoso e assai faticoso. Però certamente la situazione italiana da questo punto di vista ha manifestato delle difficoltà particolari che sono legate a dei difetti strutturali che sarebbe stato necessario risolvere assai prima, mentre conosciamo la storia delle riforme che hanno riguardato questo ambito della nostra vita pubblico. A fronte di questa inadeguata risposta dal punto di vista dei decisori politici abbiamo avuto anche una risposta certamente piuttosto problematica da parte delle cittadinanze o quantomeno della cittadinanza o quantomeno da parte di quel pubblico, di quella parte della cittadinanza più incline a far sentire la sua voce, anche la sua voce critica nella situazione che si era venuta creando. Questo appunto vale genericamente per il pubblico colto, vale per gli opinion makers, vale per il sistema dell'informazione che direi non ha dato una buona prova. L'elite culturali, quelle politiche, le comunità scientifiche anche si sono mostrate spesso piuttosto divise e il sistema dell'informazione non ha fatto altro che moltiplicare la confusione in fondo ha avuto delle conseguenze di inasprimento di quella conflittualità che poi aveva altre e ben note radici nel funzionamento, nel cattivo funzionamento del nostro sistema politico. Di nuovo un problema che si trascina da decenni ma che negli ultimi anni ha manifestato tutta la sua rilevanza. Ecco e qui arriviamo ad allargare il discorso al quadro generale delle democrazie contemporane perché questa crisi è venuta a cadere in una fase in cui le democrazie attraversano una trasformazione. Quella trasformazione che abbiamo ormai abbondantemente studiato, analizzato nel corso degli ultimi anni, si direbbe che la scienza politica in questi anni non ha fatto altro che parlare di populismo. Ecco la trasformazione delle democrazie contemporanee ha a che fare con questo fenomeno, un fenomeno che possiamo sintetizzare intorno a due elementi, rilevando due elementi. Da un lato il fatto che l'involuzione populistica delle democrazie ha manifestato la sfiducia diffusa delle cittadinanze nelle istituzioni e dall'altra ha manifestato soprattutto da parte delle elite economiche e soprattutto politiche una insofferenza per la complessità. Ecco direi sfiducia nelle istituzioni, insofferenza per la complessità dei processi governativi, processi di gestione, come oggi si dice usando un termine un po' equivoco e molto abusato di governance, che non si capisce mai bene che cosa sia, fino a che punto sia decisione pubblica e fino a che punto invece sia concertazione, trattori distribuiti in tutto il sistema sociale e inclini a agire in base a logiche che sono certamente differenti da quelle del sistema politico. Quindi qui dobbiamo focalizzare probabilmente la nostra analisi su due concetti chiave che danno l'idea della profondità del problema. E questi concetti sono appunto da un lato complessità e dall'altra una dei grandi indicatori di questa insofferenza nei confronti delle istituzioni, di sfiducia nei confronti delle istituzioni, il tema del cosiddetto biopotere. Molto brevemente, una teoria importante, una teoria sociologica importante che ha in qualche modo plasmato il dibattito nel corso degli ultimi decenni, la teoria dei sistemi, ha insistito sul fatto che le società complesse non si possono più governare verticisticamente a partire da un centro. Il sistema politico è soltanto uno dei tanti sottosistemi che operano all'interno del sistema sociale globale. Non è un sistema sovraordinato agli altri, è un sistema che si deve coordinare con gli altri. È anche lui un sottosistema, come è un sottosistema l'economia, come è un sottosistema il settore sanitario, come è un sottosistema l'ambito della istruzione, della formazione e così via. La complessità delle società è data da questa differenziazione tra sottosistemi che rivendicano ciascuno la propria autonomia, cioè pretendono di dare regole di funzionamento a se stessi senza essere sottoposte in modo troppo invasivo a regole dettate da un potere superiore quale tradizionalmente era considerato il potere dello Stato, del governo, del sistema politico. Questo è sicuramente il primo aspetto che ha ingenerato problemi oggettivi, indubbiamente. La conflittualità che abbiamo visto in questi mesi e che perdura ha a che fare con il fatto che dai sottosistemi economia, sanitario, provengono domande richieste di intervento divergenti, diverse, di difficile composizione. E un sistema, sottosistema politico che dovrebbe trovare la composizione tra queste diverse esigenze, si trova in carenza di legittimità, si trova contestato ogni qualvolta cerca di forzare la mano ad uno dei sottosistemi, l'economia da un lato, la sanità dall'altro, che richiedono con tutta evidenza interventi, misure differenti, da una parte più liberalizzazione, dall'altro il lockdown, eccetera. Quindi questo è un quadro che interessa indubbiamente tutte le democrazie contemporanee. Poi l'altro tema è quello del biopotere, un concetto che ha goduto negli ultimi decenni di nuovo di una grande fortuna e indubbiamente questa crisi sembra fatta apposta per conferire così legittimità a un paradigma come quello dei teorici della biopolitica, i quali affermano sostanzialmente che le democrazie contemporanee, le democrazie costituzionali, le democrazie liberali hanno sostituito alle vecchie pratiche di governo e di disciplinamento delle società, guidate, gestite, pilotate da un vertice, pilotate da un centro, hanno sostituito pratiche diverse fondate sui saperi scientifici, pratiche più invasive ma al tempo stesso dolci, non contundenti, apparentemente non lesive della libertà ma in realtà interventi promozionali del benessere che favoriscono il benessere dei cittadini. Ebbene questo paradigma biopolitico che centra la riflessione sul tema del biopotere sostiene che in realtà non è così, questa è una forma di dominio, è una forma di controllo della società ancora più dispotica in fondo che quella che hanno esercitato le società, le democrazie tradizionali. Ecco, richiamo questo aspetto perché è facile capire come certi sgangherati discorsi che abbiamo sentito nel corso di questi mesi e non solo in Italia, in tutte le democrazie occidentali sulla dittatura sanitaria, sullo stato d'emergenza come stato d'eccezione che promuove automaticamente delle logiche e delle dinamiche autoritarie che violano sistematicamente i diritti fondamentali ha qui la sua radice in questa diagnosi che certamente anche se è stata prodotta in ambiti accademici anche piuttosto minoritari ha poi avuto una ricaduta di attenzione da parte di quel dibattito pubblico a cui alludevo prima, è stata in qualche modo veicolata magari in forme più banalizzate dai media ed è diventato un collante di quel discorso ideologico che continua ad alimentare da un lato sfiducia nelle istituzioni e dall'altra anche una reazione di non disponibilità di adattamento alle logiche complesse di una società moderna. E qui ecco vengo al punto conclusivo ma anche ad un affondo problematico sullo stato delle democrazie contemporanee. Noi ci siamo ormai abituati a considerare la nostra età democratica come età dei diritti. Certamente il tema dei diritti, i diritti dell'uomo in generale, i diritti delle cittadinanze è stato un grande vettore della crescita, della maturazione delle democrazie occidentali. Anche qui potremmo fare una lunga storia ed è innegabile l'importanza di questa problematica. E tuttavia noi abbiamo anche assistito nel corso degli anni ad una enfatizzazione di un tema come quello dei diritti in chiave di rivendicazione da parte dei titolari di questi diritti, di rivendicazione di prestazioni sempre più ampie, sempre più esigenti da parte delle istituzioni. c'è stata, come dire, intanto una crescita della tipologia dei diritti fino a includere nel paniere dei diritti rivendicati il diritto alla felicità e c'è stata una certa non consapevolezza del fatto che i diritti, avendo un rapporto diretto con la problematica dei valori che orientano la nostra esistenza, entrano tra loro anche in conflitto. Non costituiscono, come dire, un paniere di rivendicazioni armoniche, costituiscono obiettivi che possono entrare in conflitto tra loro o che comunque richiedono una difficile composizione. Quando chiedo un diritto che attiene alla dimensione della libertà devo essere consapevole che in qualche modo, chiedendo quello, posso ledere i diritti che riguardano invece la dimensione dell'eguaglianza. E allora la nostra età, definita età dei diritti, forse andrebbe anche ridefinita un'età del conflitto sui diritti. E la situazione attuale, la pandemia, con quel gioco un po' al massacro tra la rivendicazione dei diritti di libertà da una parte e dall'altra la rivendicazione di un diritto alla salute o al diritto alla vita, ha manifestato di nuovo in modo molto forte questa conflittualità che inerisce ai diritti e ha manifestato al tempo stesso in modo preoccupante anche una certa tendenza che avevamo già dovuto registrare più volte con qualche allarme nel corso dei decenni precedenti, una certa tendenza a concepire questi diritti come delle pretese insindacabili, a concepire questi diritti come pretese alle quali le istituzioni devono necessariamente dare risposte anche quando nella rivendicazione dei diritti non si mostra alcuna consapevolezza del fatto che l'altra faccia dei diritti per ciascuno di noi che li rivendica sono i doveri. La forbice diritti e doveri si è allargata mentre i due aspetti avrebbero dovuto essere percepiti come le due facce della stessa medaglia. Si è parlato nei dibattiti di inflazione dei diritti, io mi spingerei a parlare addirittura di pleonexia dei diritti, di una spinta a richiederne sempre di più, sempre di nuovi, in modo sempre più illimitato, dimenticando che questi diritti sono sempre anche dei micropoteri e questi micropoteri necessariamente finiscono per collidere con i poteri degli altri. Ecco, un nostro grande politologo Giovanni Sartori aveva già in un libro all'inizio degli anni 90, quando era avvenuta la grande svolta, si diceva tutti i paesi del mondo sono diventati democrazie, le democrazie liberali hanno vinto e lui si chiedeva ma queste democrazie che hanno vinto la battaglia contro i totalitarismi saranno veramente in grado anche di vincere i loro problemi interni. Ebbene, in questo libro, in modo molto forte, Sartori poneva già la questione di questi diritti che lui chiamava diritti spettanze, questi diritti pretesa, che in genere erano anche un'estrema ambivalenza nel nostro rapporto con il potere. In fondo dobbiamo ricordare che le ideologie della modernità sono state tutte ideologie critiche del potere, che hanno sempre guardato al potere come qualcosa di minaccioso e quindi ai governi come poteri pericolosi, a cominciare dal liberalismo venendo in avanti. E questo atteggiamento naturalmente nelle democrazie costituzionali ha trovato espressione e diciamo anche sanzione costituzionale. E tuttavia, ecco l'altro aspetto della medaglia, a questa sfiducia preventiva nei confronti del potere di qualsiasi sua mossa, di qualsiasi suo intervento nella vita sociale, sia accompagnata anche una crescente richiesta di prestazioni di intervento. Siamo insofferenti nei confronti del paternalismo, ma poi vogliamo lo stato padre-madre, lo stato provvidenza, come alcuni sociologi hanno detto. Rifiutiamo le ingerenze del potere nella nostra vita, denunciandolo addirittura come biopotere o come biopolitica e poi però chiediamo l'intervento dello stato distributore. Adesso potremmo parlare dello stato risarcitore, dello stato che provvede a riparare i danni che una situazione pandemica con le sue ricadute economiche ha generato nel tessuto della società. Ecco, questa ambivalenza del nostro rapporto con il potere è certamente un grande problema che attiene al stato delle democrazie contemporanee. E allora, per concludere, probabilmente è a questo punto necessario un ripensamento anche dell'equilibrio tra quelle due componenti che si sono messe in luce nel discorso democratico costituzionale di questi ultimi decenni che costituiscono diciamo l'ossatura delle nostre democrazie. Quali sono queste due componenti? Quella che è stata chiamata istituzioni di garanzia e quella che è stata chiamata istituzioni di governo. Le nostre democrazie costituzionali poggiano su queste due gambe le istituzioni di garanzia che certamente riguardano la garanzia dei diritti fondamentali, ma dall'altra le istituzioni di governo che riguardano invece la macchina del governo, il funzionamento delle istituzioni e che attiene questa dimensione principalmente alla effettività del potere, alla sua efficacia, alla sua capacità di affrontare e risolvere i problemi, certamente ingenerando processi che intervengono sulla vita dei cittadini, che intervengono sulla vita di tutti noi rimodulando i rapporti tra diritti e intervenendo sulla fruizione di determinati diritti in relazione alle circostanze che si vengono a verificare. Una situazione d'emergenza è certamente ragionevole che alle istituzioni di governo siano consentite misure che in qualche modo limitano dei diritti del cittadino per quanto riguarda la dimensione della privacy, pensiamo tutte le problematiche delle app e dall'altra limitano magari anche il dato, la libertà originaria, quella che per Hobbes era la libertà prima di un cittadino, di un suddito per lui, che era libertà di movimento. Ecco, noi siamo di fronte certamente a degli interventi che intervengono proprio su questa falda originaria della libertà, su questa dimensione originaria della libertà. Un intervento però che è dettato dalle circostanze, reso necessario dalle circostanze e rispetto al quale quindi dobbiamo sviluppare una adeguata consapevolezza. Ecco, ho fatto un discorso di carattere piuttosto generale, ma questo naturalmente non ci impedisce di tradurlo in una riflessione più a livello pragmatico di interventi concreti per quanto riguarda il futuro delle nostre democrazie, che se soffrono di queste insidiose sotterranee patologie, indubbiamente richiedono degli interventi di ingegneria costituzionale anche piuttosto sofisticati, diciamo pure molto delicati, perché si è tutti consapevoli del fatto che l'intervento sul panel dei diritti fondamentali riconosciuti dalle costituzioni è qualcosa che può albergare grandissimi rischi. Siamo tutti consapevoli che quello che è necessario alle democrazie contemporanee non è una virata verso modelli autoritari, modelli autoritari che invece proprio la patologia fondamentale delle democrazie costituzionali contemporanee, cioè il populismo, sembra preparare attraverso un percorso di radicalizzazione del conflitto e di radicalizzazione della spaccatura tra istituzioni e cittadinanza. E tuttavia, ecco, interventi che abbiano a cuore anche l'effettività, l'efficacia, l'efficienza delle istituzioni di governo si mostrano necessari e fra questi certamente uno degli ambiti che richiede un adeguato ripensamento è quello della distribuzione dei poteri tra i centri decisionali dei sistemi politici e i poteri intermedi a livello di distribuzione territoriale. Probabilmente quello che uscirà da questa crisi per quanto riguarda l'orizzonte delle democrazie sarà anche la necessità di ripensare gli assetti federalistici, tararli alla possibilità che emergenze di questa entità e di questa gravità possano riprodursi o comunque prepararli più adeguatamente alla eventualità che crisi economiche ampie richiedano un adeguato aggiustamento della dialettica tra poteri centrali e poteri regionali. Sono questi tutti compiti molto impegnativi, difficili, rispetto ai quali tutte le democrazie incontreranno certamente serie difficoltà condizionate in primo luogo dal fatto che questi interventi di ingegneria costituzionale dovranno sempre fare prioritariamente, preliminarmente i conti anche con la necessità di ripensare le politiche economiche, del rivedere in qualche modo le modalità di bilanciamento tra la sfera pubblica e la sfera privata. Abbiamo assistito in questi mesi ad uno shifting dalla centralità del mercato, dell'ambito privato al ritorno anche in modo molto importante del pubblico, dello Stato a sostegno dell'economia. E quindi anche qui si tratterà di trovare soluzioni innovative, non semplicemente un ritorno al passato a più statalismo indifferenziato, ma soluzioni innovative che consentano poi che anche gli altri interventi di residuazione del potere possano essere mandati ad effetto e conseguire risultati positivi. E infine ecco il lavoro che ci aspetta è anche quello di ripensare la cultura politica delle nostre democrazie, chiedersi se in fondo in qualche modo non abbiamo ecceduto nell'attenzione per le istituzioni di garanzia, dimenticando la rilevanza di aspetti che riguardano invece la capacità di intervento dei governi, le istituzioni di governo. Perché se ignoriamo questa dimensione culturale del nostro atteggiamento, del nostro orientamento nei confronti delle istituzioni e del loro diritto dovere di incidere anche sulla ridistribuzione di quei micropoteri che sono i diritti fondamentali, finiamo per favorire una deriva che non può avere altro esito che il conflitto politico è un po' destabilizzante e un'altra lezione della teoria dei sistemi è che le società complesse non possono sopportare livelli troppo alti di conflittualità senza ricadere in scenari che preferiremmo non dover vedere più.